Buongiorno, bentrovati, siamo in due, lui è Gianluca Dotti, sono le ore 18.01, siamo un minuto in ritardo, del 6 marzo del 2021, questo per che si sappia, alla mia sinistra trovate, o alla mia destra, secondo di dove guardate, trovate Gianluca Dotti, giornalista scientifico, lo trovate su tante riviste, dimmene una, dimmene un paio. Allora, su Business Insider, su Forbes, ogni tanto su Radio 24. E ogni tanto, per cui insomma, non solo riviste online e riviste scientifiche, ma anche sui social. Allora, noi abbiamo invitato qui Gianluca Dotti, perché? Perché Gianluca fondamentalmente è un giornalista, com'è che ci immaginiamo un giornalista scientifico come Gianluca Dotti? Non è che ce lo immaginiamo diverso. Così, fatto così, con gli occhiali, la camicia elegante, è un bravo ragazzo, tra l'altro giovanissimo, di formazione fisico, dico bene? Assolutamente fisico, della materia applicata, quindi cose molto piccole. Modenese, o vivi a Modena? Nato in provincia e vivo in città, però modenese. Perfetto, insomma, è un quadretto, sembra finto. E tra l'altro io l'ho conosciuto personalmente perché scrive, anzi è molto attivo sui social. In particolare su Facebook o sbaglio? Sono io che ti vivo attraverso Facebook o è il tuo canale di riferimento? Soprattutto Facebook. Che tra l'altro è un canale di vecchi, perché ci sto io. Così dicono. Così dicono, perché tu hai 32 anni, giusto? Esatto. Quando mi capita di fare incontri nelle scuole, parlo di Facebook, mi guardano come se fossi tipo un marziano o una persona che arriva da un'epoca precedente. Esatto, un marziano anziano. Allora, io ho conosciuto Gianluca Dotti perché insomma con il team di Infodata, di giornalisti e così, ogni tanto ci scambiamo, devi sapere, i tuoi lanci su Facebook. E li commentiamo perché insomma il punto di vista di Gianluca è del ricercatore, no? Per cui insomma che io l'ho definito il giornalista, il perfetto giornalista da laboratorio, no? Per cui lei vicende, i fatti, gli accadimenti, li prende, li mette su un tavolo, si mette il, diciamo, la giacca bianca, gli occhiali già ce li hai e comincia a sezionarlo, no? Con giudizi anche divisivi, molto divisivi. La cosa interessante è che in epoca, insomma, in quest'ultimo anno di Covid, Gianluca è riuscito ad attirare sui suoi social un po' di tutto. Cioè sia grandi lodi, sia grandi apprezzamenti da parte di colleghi e non solo, ma anche grandi insulti. Io faccio vedere se sei d'accordo. Questo che vedete alla vostra, appunto, destra o sinistra, secondo me, dove guardate, è un post del 23 marzo che ha titolato lo stesso Gianluca, fatti assumere da un telegiornale, dove, insomma, c'è una serie di insulti che non vi dico, ma che potete leggere, che vanno anche, oltre alla parte offensiva, insomma, che sostanzialmente hanno, dimmi se sbaglio, come filo conduttore, da un lato, insomma, un po' di sano negazionismo verso le tesi scientifiche, dall'altro un po' di fastidio per forse la non comprensione delle difficoltà delle persone, perché poi c'è anche una critica che ti viene fatta molto forte, sì, è facile chiedere a tutti di stare a casa quando fondamentalmente il tuo mestiere è quello di fare il giornalista scientifico, per cui io mi aspetto che tu non, questa è una domanda che ti faccio, tu non hai mai, non ti sei mai mosso da casa in questo, in quest'ultimo anno. E' vero, sicuramente un tipo di giornalismo un po' particolare, nel senso che non è quella classica attività arrembante, in cui si va alla caccia di qualcuno, lo si insegue per fare appunto, sì, la notizia, lo scoop, o trovare il personaggio particolare, ma è un'attività che di solito è un po' più di studio forse, quindi la partenza è da archivi, banche dati di pubblicazioni scientifiche, valutazioni comunicati e contenuti prodotti da società scientifiche, da istituzioni e così via, quindi poi si entra anche un po' nel merito delle questioni. A te fondamentalmente, non è che viene chiesto di scoprire delle notizie, cioè a differenza della giornalista di cronaca che deve andare magari sul campo del giornalista finanziario, ho iniziato facendo il giornalismo finanziario, per cui cosa facevo? Andavo fuori dalle banche, con il microfono, con il registratorino, ad aspettare che uscisse l'amministratore delegato della situazione, pum, registratore davanti alla bocca, allora è vero che lei ha detto che i conti non andavano bene, loro non mi rispondevano, però adesso mi aveva una domanda che avevo fatta. Questo mondo qua non ti appartiene, perché voi non è che andate fuori dalle università ad aspettare i professori universitari che escono per Carpigli lo studio, aspettate che lo studio venga pubblicato, entrate nel merito, dimmi se sbaglio, della peer review, cioè del tipo di giudizio che viene dato all'articolo, o guarda, leggete l'articolo, insomma, basando le sue evidenze scientifiche, non date un giudizio, però insomma cercate di creare un contesto se questo articolo, diciamo, presenta un progresso per la scienza o no. L'ho detta bene? Assolutamente sì. Poi, ascoltando le tue parole, Luca, insomma, nell'ultimo anno abbiamo visto che in realtà anche sulla scienza ci sono state le... il microfono davanti alla bocca dello scienziato per raccogliere opinioni, pareri, divisioni, no? Forse creando anche un po' quella polarizzazione o dando un'idea di una scienza più litigiosa di quello che poi mediamente è davvero. E con questo ti ha fatto arrabbiare? Cioè, Gianluca, nel senso che una parte del giornalismo scientifico, insomma, si è sempre mosso un po' come un solo uomo dietro ai professori, no? Dicendo, ma lo hanno detto loro, no? Con il Covid cosa è successo? Che questo loro, come dicevi tu, non è... non c'è la scienza o lo scienziato, ma insomma ci sono state tante divisioni che hanno messo anche fortemente in discussione nel ruolo dello scienziato in questa comunità. Oggi stiamo registrando, ed è il 6 marzo, la notizia di oggi è che probabilmente un uomo dell'EMA ha detto che c'è un nesso tra AstraZeneca e la trombosi che sono stati... cioè ha parlato di un nesso, no? Mentre prima era stato detto da tutte le parti, no, non è vero, è tutta politica, anzi è solo politica, la scienza giudica in maniera uguale. Cosa ne pensi? Diciamo che nella comunità della comunicazione scientifica e del giornalismo scientifico c'è un dibattito da tempo, perché ovviamente il ruolo di chi fa giornalismo scientifico non è semplicemente il mettere il microfono davanti alla bocca della comunità scientifica e fare da, diciamo, rilanciatore di notizie, di comunicati e di annunci. Ma è come dicevi tu, quello di contestualizzare poi quello che succede all'interno di un tessuto più complesso che è quello della società più in generale, no? Quindi ci sono poi... c'è un'ampia letteratura sul rapporto tra scienze e società e su come anche inserirsi in questa narrazione. Nell'ultimo anno è vero che si è un po' stravolto tutto il meccanismo, è entrato nei media di massa la scienza, il come si fa la scienza e ancora di più il rapporto tra la scienza e il nostro vivere quotidiano che da un lato è un'opportunità straordinaria. Lo si ripete spesso, non è mai capitato, almeno nella storia recente, che la scienza fosse così tanto protagonista del dibattito pubblico e della scena mediatica. Quindi è senz'altro un'opportunità dal punto di vista anche della diffusione della cultura scientifica e del sottolineare il valore e l'importanza del fare scienza con tutto quello che comporta in termini di lavoro, in termini di risultati. Dall'altro lato è vero che nell'ultimo anno però questa comunicazione, questa occasione non è stata colta nel migliore dei modi possibili perché sicuramente c'è stato appunto si potrebbe dire che abbiamo visto un po' troppo da vicino come si fa la scienza e quindi siamo andati anche a vedere quello che sono gli attriti, magari le inimicizie, magari le discordie o i piccoli disallineamenti tra le opinioni di un gruppo di ricerca, un altro gruppo di ricerca e un po' il giornalismo è andato a scavare in queste differenze. Cioè se c'è un accordo del 98% su quello che sta succedendo non si è stati a sottolineare, a raccontare bene quel 98%, ma si è andato proprio a cercare di infilarsi in quel 2% e di polarizzare un po' il dibattito. Tant'è che vediamo quotidianamente annunci, Tizio ha detto questo, Caio ha detto l'esatto opposto e quindi poi il risultato è che non ci si capisce più nulla. Ecco, cos'è che ti ha fatto agrabbiare in quest'anno? Cioè, chi è che ti ha deluso? Io non so se tu sei un follower di Burioni piuttosto che dei tanti, non sembrano delle figurine di calciatori, no? Cioè, dei tantissimi epidemiologi, la capua, insomma, che si sono alternati, televisivi e non, tra l'altro, perché poi nei telegiornali, visto che ti hanno detto di diventare telegiornalista, cioè nei telegiornali... Assunto, tra l'altro, non sarebbe male, però, insomma, nei telegiornali, che cosa... Almeno un... Io ho fatto un calcolo, insomma, visto che anch'io sono in lockdown, nel telegiornale, quello di metà mattinata, c'è sempre l'intervista all'epidemiologo. Proprio lì, cioè li prendono da tutti gli ospedali, poi tenendo conto che in ogni ospedale ce n'è uno, per cui stanno chiudendo il giro, se parliamo di telegiornali regionali, nei contenitori televisivi ci sono sempre i soliti che parlano da galli, eccetera, non sempre dicono la stessa cosa, sempre però dicono una cosa che fa abbastanza agrabbiare, almeno, quantomeno, che vedo che anche nei tuoi, diciamo, detrattori o nelle persone, insomma, che non sono d'accordo con te, molto spesso il punto di vista scientifico è, anzi, il punto di vista del medico è quello, noi dobbiamo combattere l'epidemia, la faccio un po' semplice, indipendentemente dallo stato di salute del paziente, noi dobbiamo combattere il virus, il paziente poi si salverà, in modo indipendente, da quelle che sono le condizioni economiche all'interno del quale è tradotto, per combattere il virus, sappiamo che dobbiamo essere distanziati, dobbiamo stare isolati, che questo comporta delle gravi perdite economiche, non è il mestiere dell'ipedemiologo, quello trovare le soluzioni economiche, ecco questo fa un po' agrabbiare, perché è l'opposto del pensiero rinascimentale, no? Cioè l'uomo rinascimentale dovrebbe essere quello che tiene conto di tante stanze, se ognuno fa il suo e guarda il suo piccolo spicchio, cioè il medico fa il medico, quindi cura la malattia, l'economista fa l'economista, quindi dice aprite assolutamente tutti i vari ristoranti, perché intanto anche se c'è qualche morto, chi se ne frega, non lo dicono gli economisti, ma magari lo pensano, se il politico cerca di fare la finta, insomma non si va da nessuna parte. Allora, le cose che hanno fatto un po' strano sicuramente sono state da una parte, visto che citavi un po' le diverse figure, di epidemiologo, virologo, più o meno famosi, è circolato più volte, probabilmente insomma lo si è visto dai social, e non solo, anche sui giornali, le classifiche del medico preferito, c'era proprio un indice di gradimento, quasi come se dovessimo in qualche modo votare chi era il migliore, non si sa bene in base a quale criterio di simpatia, o di quanto bucava lo schermo, quando era... Io dico Galli comunque, lo so che non volevi tirarmi dentro a questo gioco, ma io ci cado subito, io dico Galli tutta la vita, non lo so. Credo che più o meno tutti abbiamo magari qualche preferenza, o qualcuno che a pelle ci sta meno simpatico, quindi forse viene un po' naturale, però magari fatto, non so, con il gradimento del leader politico, oppure fatto con, non lo so, l'ospite della casa del grande fratello, suona in un certo modo, fatto tra epidemiologici, ma boh, il mio preferito, quasi come se fosse appunto una gara tra di loro, a chi primeggia sugli altri. E l'altra cosa, a proposito di quello che dicevi tu, della idea rinascimentale, del mettere insieme tutte le conoscenze, c'è stato un po' l'effetto antiopposto, cioè quello di chiedere contenuti molto specialistici a esperti che sono esperti d'altro. Quindi magari si chiede all'epidemiologo una questione genetica sulla mutazione del virus, che sicuramente conoscerà molto meglio dell'italiano medio, però non è il suo campo di ricerca e magari il viceversa, quindi si chiedeva un parere sullo sviluppo del vaccino a uno specialista medico che si occupa, non so, di pediatria, che sì, sicuramente sa bene che cosa sono i vaccini, ma non è il suo mestiere quello di svilupparli o di controllare la filiera. Però Gianluca, loro rispondono, cioè è questo il problema, nel senso che poi io e te siamo pagati per fare le domande, poi tu hai un po' di vigore nel fare le domande, nel senso che magari non ti viene da fare la domanda di genetica a chi si occupa di altro, però sai, il pubblico ha bisogno di risposte non segmentate, perché poi sai, il rischio è quello che ognuno dica un pezzettino, no, perché poi la scienza va avanti così, va a pezzettini, perché è organizzata così, no? Poi devi fare un po' la sintesi, soprattutto quando c'è un tema di emergenza, no? C'è un'emergenza planetaria, più che mettere insieme i pezzettini, qualcuno dovrà fare la sintesi. Io oggi leggevo Mantovani, che in maniera candida sul Corriere della Sera, diceva, no, ma guardate che è una cura efficace per il Covid e l'avremo alla fine dell'anno, l'avremo entro un anno, no? Cosa che probabilmente tutti un po' la sapete, almeno tutti quelli che si sono occupati del tema lo sapevano, che questi sono vaccini efficaci, vaccinatevi, vacciniamoci, il messaggio è quello, che però insomma nel corso, cioè poi la cura veramente efficace la troveremo nel tempo. Sì, cioè che la scienza è qualcosa in divenire è ovviamente l'unica certezza che abbiamo, no? Quindi anche quando si parla delle previsioni, di quello che sta per succedere, è sempre un po' difficile, poi insomma c'è chi si è messo a fare per esempio le previsioni del picco, no? Quindi guardava l'evoluzione della curva epidemica e stimava con X giorni d'anticipo quando sarebbe stato raggiunto il massimo e quello, vabbè, è un'elaborazione matematica che a volte è stata anche... Che a te è piaciuta, però a te piaceva questa cosa quale è l'elaborazione del P. Allora, quando era basata su dei dati solidi, sì, quando era un po' un tentativo a partire da tre punti mesi sul grafico si tracciavano delle curve mirabolanti e insomma lasciava un po' il tempo che trovava, no? Addirittura a un certo punto mi pare a febbraio, no scusa, no febbraio, era aprile dell'anno scorso circolavano delle proiezioni di quando si sarebbero azzerati i contagi provincia per provincia che ovviamente era una cosa, un'assurdità nel senso che adesso lo sappiamo a 13 mesi di distanza che non si è mai azzerato niente da nessuna parte, era giusto la proiezione della curva in diminuzione l'avevano fatta intersecare con l'asse orizzontale, avevano trovato il punto di intersezione dicendo beh, qui è quando i contagi s'azzerano ma era completamente fuori da ogni corrispondenza con la realtà. E' il giornalismo da laboratorio che è bello perché diventa una simulazione matematica con un suo rigore poi però calata nella situazione diventa un esercizio di stile che poi è anche questa una critica che in qualche modo non a te direttamente ma al tuo modo di guardare le notizie ti viene rivolta sui social o sbaglio cioè di essere in qualche modo un giornalista un po' fermo sulla sedia che guarda studia prova ad applicare le categorie della matematica della simulazione del calcolo su materie dove per ovvie ragioni non conta solo quello perché questa pandemia non si è verificata in un laboratorio o in un mondo diciamo in cattività in un acquario ma si è verificato in un mondo dove c'è persone che seguono le regole dove ci sono persone che non seguono le regole dove ci sono stati che adottano alcune misure cioè questa complessità del caos che tra l'altro tutta fisica dovresti apprezzare moltissimo è quello che forse rende il racconto di questa epidemia lontano dalle categorie del giornalismo scientifico adesso l'ho detto un po' grossa però forse anche la comunicazione scientifica ha fatto fatica a muoversi in uno scenario dove contava tanto la politica la domanda è visto che io faccio delle domande che poi non si capisce la domanda è quanto ti ha infastidito il ruolo del decisore politico il ruolo del anche della della gente cioè del fatto che le persone hanno disubbidito non dico in gran parte ma molti hanno disubbidito alle limitazioni ai dpcm quanto hai provato personalmente fastidio per questo laboratorio che non era tale non si poteva combattere la battaglia del virus a tavolino allora io personalmente non ho mai fatto delle simulazioni delle proiezioni perché mi sembrava appunto che la situazione fosse troppo complessa per cercare di mettere su un grafico una curva un andamento e tirarci fuori un risultato numerico o qualche cosa di così definito e definitivo quello che è successo è che effettivamente era una fase in cui io personalmente ho molto criticato e sono anche stato di conseguenza criticato è quello che è accaduto diciamo nel mese di agosto inizio settembre del 2020 quando c'è stata un'inversione non nelle proiezioni ma nei dati reali che erano stati registrati quindi era direi più o meno la metà di agosto che il trend delle terapie intensive si è invertito quindi fino a quel momento l'occupazione i posti letto di terapia intensiva in Italia stavano continuando a diminuire hanno avuto qualche giorno di plateau e poi a un certo punto si sono rialzati è chiaro che all'inizio l'impennata è stata molto piccola in valore assoluto cioè si parlava di tre posti in più quattro posti in più cinque magari un giorno addirittura calavano di due unità però l'andamento tendenziale mostrava chiaramente che c'era stato un minimo e che si stava ricominciando a salire in quella fase non tanto io personalmente che ho un'influenza molto prossima allo zero per non dire negativa però diverse persone che stavano analizzando i dati quotidianamente hanno un po' lanciato l'allarme molto in anticipo rispetto anche a quando se ne è poi accorta la politica le istituzioni cioè hanno detto guardate che il trend è invertito e come tutti gli andamenti esponenziali si parte piano ma poi se l'andamento è quello i numeri diventano grandi e sappiamo poi bene che in quel caso chi ha lanciato l'allarme l'aveva detta giusta perché a distanza di un paio di mesi poi ci siamo trovati con numeri importanti ma in quella fase a me è capitato anche sui social di avere alcuni come dire persone dal parere discordi rispetto al mio che in modo un po' insistente sottolineavano come non fosse assolutamente vero come fosse un guardare ai numeri perdendo completamente il senso di realtà invece era quello poi che sarebbe successo di lì a qualche settimana qual è la critica che ti ha fatto più male di quelle che vabbè io ho letto degli insulti nel senso però cose che noi sappiamo che sui social dire no vuol dire io molto spesso per cui si tende ad avere opinioni anche più forti di quelle che parla di leoni da tastiera però qual è diciamo la critica che ti ha fatto più male nel senso che hai capito che probabilmente o era strumentale o era figlia di una cultura che forse non ti appartiene o che poi non si capisce neanche come arrivino a te perché poi facebook è anche un luogo aperto ma fino a un certo punto certo ma allora le critiche sono un po' di diverso tipo secondo me ce ne sono alcune che sono quelle incomprensibili nel senso che non toccano davvero un punto per esempio una critica che spesso mi viene fatta è proprio sull'appellativo di giornalista scientifico su cui forse c'è anche un po' di incomprensione su che cosa significhi cioè probabilmente c'è qualcuno insomma una parte del pubblico che pensa che esista una disciplina che è il giornalismo scientifico non nel senso di giornalismo che parla di scienza ma di giornalismo fatto con metodo scientifico come se fosse un auto attribuirsi un senso un po' positivista e scientista della cosa quindi dire io non sono un giornalista normale sono un giornalista scientifico quindi ho sempre ragione per default esatto viene un po' interpretata secondo me in quel senso quindi ah perché tu non solo ti definisci giornalista ma giornalista scientifico te la tiri è un po' come dirti te la tiri esatto te la tiri quando secondo me appunto questa cosa viene un po' intesa male e poi c'è tutta quella parte di critiche che sono difficili in ogni caso da ricevere perché non non contengono il punto della critica no? quindi magari criticano perché non lo so io dimostro forse qualche anno in meno di quello che ho quindi mi viene detto che sono un giovincello appena uscito da scuola cosa vuoi saperne stai zitto taci quindi non si sa bene oppure quelle critiche non so per via dell'editore del giornale su cui ho scritto quel particolare articolo come se ci fosse ovviamente questo vale un po' dappertutto e non solo nella scienza e poi ci sono invece una serie di critiche io faccio sempre questo tentativo cioè di cercare di capire qual è il messaggio che l'altra persona vuole darmi a prescindere dal modo in cui me lo dà cioè anche quando diventa sgarbato volgare offensivo al limite dello stalking perché magari è su otto post di fila però magari c'è un punto un qualcosa che mi porto a casa perché magari non so c'è una parola che potevo scegliere in modo più opportuno c'è un un equilibrio magari una l'altra campana come si dice che potevo menzionare in modo un po' diverso da come l'ho fatto insomma cerco sempre di raccogliere quando si capisce perché più della metà delle volte direi che non si capisce però quando si capisce cerco di portarmi a casa qualcosa di di buono dalle critiche quando sono costruttive ci sono però dei casi in cui non si cerca il dialogo non si cerca di capirsi a vicenda ma è semplicemente un portare la propria posizione avversa senza argomentare ma hai avuto anche fuoco amico o è solo fuoco tra virgolette negazionista cioè esiste il fuoco amico cioè esistono colleghi che colleghi o anche non colleghi cioè personaggi del mondo scientifico medici che che in qualche modo hanno messo in discussione il ruolo nel senso che poi sappiamo essere c'è anche una una certa concorrenza tra i giornalisti scientifici e i cosiddetti divulgatori cioè nel senso che ci sono quelli che di mestiere no cioè si occupano di materie scientifiche come è il tuo caso poi ci sono i divulgatori che sono quelli che magari stanno in un laboratorio sono esponenti a a vario titolo eh della comunità scientifica e che parlano di cose scientifico qual è la relazione tra tra divulgatori e Giorgia Biamate oppure c'è una sana di stima eh per il fatto di vedere le cose da dei punti di vista diversi no i rapporti devo dire che almeno per quanto ne so io sono molto buoni nel senso che è vero eh che ci sono queste due professionalità che sono un po' diverse fra di loro anche e soprattutto per il modo con cui arrivano al pubblico no se attraverso una testata giornalistica o magari direttamente su ogni social però al di là magari di eh un po' di concorrenza di simpatie più o meno spiccate eh individualmente per una persona o per l'altra però di solito c'è un un buon accordo o comunque quando eh non si è d'accordo si discute di quello che si sta facendo cioè mi è capitato effettivamente eh di ricevere osservazioni critiche da parte di colleghi giornalisti così come da divulgatori come anche a me è capitato di farne magari sulle pagine social eh di colleghi però in quel caso mh non è che si può parlare di hater o di leoni da tastiera o di insulti che volano eh ogni tanto può capitare che ci sia qualche scena di questo tipo però nella maggior parte dei casi rimane una eh una discussione molto civile soprattutto costruttiva quindi magari si discute sul merito non sempre si riesce ad arrivare a un punto d'accordo eh totale tra le due persone però effettivamente eh si sta cercando tutti e due di capirsi l'uno con l'altro quindi devo dire che in chi si occupa di raccontare la scienza che sia giornalisticamente che sia come divulgatore di solito c'è questa volontà di eh effettivamente comunicare eh si vede meno magari quando ci sono altri tipi di professionalità o altri modi di raccontare che sono più polarizzanti quindi magari eh si va direttamente allo scontro è un po' o stai con me o stai contro di me c'è qualcosa che hai scritto che non avresti voluto scrivere perché poi ha sollevato cioè è stato frainteso o ha sollevato commenti sbagliati dove ti sei accorto che che tu avevi in testo una cosa e che ne è passata un'altra ecco allora che non avrei voluto scrivere direi di no anche perché capita mi è capitato insomma qualche volta magari di sbagliare una cosa perché l'ho capita male ma in quel caso poi il pezzo fortunatamente online si può correggere quindi si chiede scusa e si rettifica l'errore però non c'è nessun pezzo che non rifarei di quelli che mi capitano parliamo sempre di social non parliamo di articoli parliamo di cose sui social di articoli chiaramente insomma si possono compiere degli eroi però è tutto un altro film il pezzo viene riletto viene rivisto e così no no ma proprio anche provocazioni sui social che forse sono state non sono state viste come provocazioni ma sono state invece colte come no direi che cose che non rifarei no mi è capitato forse una volta direi che ho scritto una cosa io ho questo difetto che magari scrivo il post e lo pubblico senza averlo riletto abbastanza volte a differenza di quello mi sembra umano mi sembra umano però almeno sui pod sui social io faccio degli errori mostruosi di battitura sono pieno di refus però mamma mia nel senso che lì insomma basta dovrebbe bastare il senso non è un esercizio di bella sì poi al di là appunto degli sfondoni che ogni tanto ci metto dentro però ecco magari lo rileggo dopo tre minuti e dico forse questa cosa così poi verrà interpretata male quindi mi capita magari di aggiungere un paragrafetto o di togliere tre righe dal post qualche minuto dopo che l'ho pubblicato perché mi rendo conto che c'è qualcosa che non va e poi una cosa a cui cerco sempre di stare attento i primi minuti dopo la pubblicazione vado a leggermi commenti nel senso che siccome ho insomma una rete di colleghi amici che sono anche molto attenti anche molto pignoli nelle cose che insomma scriviamo anche tra di noi su facebook se prendo un granchio se c'è qualcosa che è veramente fraintendibile o scritto sbagliato me lo fanno notare molto molto in fretta quindi ho un po' anche questa fortuna che mi dico ma sei sicuro di questa roba che hai scritto e allora mi rendo conto che magari avevo un'idea ma ne è passata un'altra comunque prendere un granchio non la sentivo da anni prendere un granchio è cioè 32 anni è tua è bellissima prendere un granchio è da fumetti di Zagor per mille nubie altrimenti senti Gianluca anche tu pensi che per fare che ne so il portavoce del ministro della sanità occorra avere una laurea scientifica cioè che per occuparsi di diciamo ruoli di comunicazione ok dove ci sono argomenti scientifici se ne fa necessariamente una una conoscenza tecnica della materia o la comunicazione esiste una cosa che chiama scienza delle comunicazioni cioè di fatto ha delle priorità diverse nel senso che c'è sempre qualcuno che ti può spiegare il contenuto della materia però insomma hai capito sì allora io la dico un po' grossa però ho l'impressione che in generale ci sia un po' un mancato riconoscimento della professionalità di chi fa comunicazione della scienza cioè comunicare la scienza ora tutti i mestieri sono difficilissimi comunicare la scienza ha bisogno di due grosse competenze di base che poi sono anche incluse nel nome una competenza di comunicazione e una competenza scientifica il che non vuol dire che sia necessario avere un preciso percorso accademico un riconoscimento formale anche perché in Italia nemmeno c'è questo riconoscimento però sicuramente aver avuto un percorso che ha portato un po' a conoscere il mondo scientifico e un po' a conoscere il mondo della comunicazione sono due know-how che quotidianamente poi ci si trova a dover mettere insieme quando si comunica la scienza quindi in questo senso se viene a mancare completamente una delle due parti fa un po' strano cioè se prendessimo anche uno scienziato espertissimo un medico con tre specializzazioni diverse brevissima che non ha mai fatto nella vita comunicazione in un ruolo di comunicazione della scienza stonerebbe un po' allo stesso modo qualcuno che ha un percorso di comunicazione ma che non ha mai avuto modo di incappare nella scienza nella sua vita boh forse potrebbe avere qualche pezzo che manca nella sua formazione poi in particolare adesso questi ultimi giorni se non sbaglio si stava discutendo anche di alcune posizioni aperte credo all'istituto superiore di sanità che c'è un bando che credo sia ancora aperto dove le uniche lauree che consentono l'accesso sono lauree umanistiche ah detto cioè viene esclusa la parte se si viene da un percorso scientifico non ci si può candidare per questo tipo di posizione che è un po' un assurdo o meglio effettivamente insomma in Italia ci sono tante scuole di comunicazione o giornalismo scientifico ormai c'è una tradizione pluridecennale e lì ci sono tanti professionisti anzi forse si sta quasi creando anche un problema di sovrannumero di questo tipo di professione rispetto non a quanti ce ne sarebbe bisogno ma a quanti posti di lavoro esistono e quindi che poi in una posizione come se nell'ultimo anno dalle nostre istituzioni sanitarie avessimo avuto una comunicazione impeccabile dopo quello che abbiamo passato che ci sia questo bando stona parecchio che idea ti sei fatto sulla questione di attualità parliamo di AstraZeneca la cosa che ha abbastanza colpito insomma tutti aspetti che da organi di farmacovigilanza italiani europei ma anche l'SD anche americani bene o male si ragioni tutti allo stesso modo nel momento a parità di dati a parità di data entry lo dico da giornalista di dati cioè dovremmo dovrebbero arrivare tutte le stesse conclusioni in realtà così no non è avvenuto ancora oggi insomma ci sono paesi in Europa che vanno con delle vere fure davanti cioè vediamo l'Olanda la Germania sembra che non voglia tornare indietro adesso si finirà cioè probabilmente AstraZeneca sarà consigliato solo ai più giovani cioè paradossalmente prima dovrebbe essere vietato agli ore 65 potrebbe finire così tu che idea ti sei fatta da giornalista scientifico che innanzitutto come l'hai vissuta cioè perché anche qui dai negazionisti o da un mondo negazionista e queste sono arche sono frecce al proprio arco cioè guardate che quello è un mondo di manipolati dalla politica conta solo la politica gli scienziati sono prezzolati o al soldo di draghi piuttosto che il resto faccio per inventare in ogni caso non ci dobbiamo fidare di loro la mia opinione è che dal punto di vista comunicativo è stato fatto un disastro a prescindere poi da da come andrà a finire dai nuovi aggiornamenti comunque è stato creato una dinamica e un modo di raccontare questa vicenda che ha dato proprio frecce ma infuocate nella faretra degli antivaccinisti o comunque degli esitanti diciamo così allora da un lato è vero che siccome la scienza è in divenire sono sperimentazioni e ricerche che sono in continuo aggiornamento ci sta per chi conosce il metodo scientifico e il modo di procedere della scienza che ci siano dei ripensamenti delle variazioni a volte anche dei veri e propri rettifiche di quello che era stato detto magari qualche settimana o qualche mese prima è chiaro che questa incertezza e questa fluidità del procedere della comunità scientifica va raccontata con molta cautela perché raccontare che tra virgolette è normale che ci possa essere una situazione che durante la sua evoluzione è un po' accidentata poi alla fine si arriva alla miglior verità possibile in quel momento che comunque una verità come tutte quelle scientifiche temporanea e provvisoria è difficile da raccontare se si dà invece quotidianamente come definitivo e sicuro il dato del giorno quello che passa al pubblico è che non ci si capisce più nulla perché un giorno è vera una cosa e il giorno dopo è vero qualcosa di diverso quindi sicuramente il vaccino AstraZeneca rispetto anche ad altri diciamo competitor è quello che sta avendo il percorso più incidentato e accidentato per varie vicende insomma già ancora prima dell'approvazione adesso ancora di più quindi di sicuro parte con qualche difficoltà comunicative in più se poi si fa passare appunto il messaggio che è pericoloso adesso non so se ricordi sul sito dell'agenzia italiana del farmaco dell'AIFA sono usciti a distanza di meno di 24 ore due comunicati uno diceva il vaccino AstraZeneca è sicuro efficace possiamo stare tranquilli il giorno dopo ritirato il vaccino AstraZeneca perché e quindi io mi metto nei panni anche di chi magari non ha tempo di seguire quotidianamente queste cose o magari raccoglie informazioni qua e là ne parla ora non al bar perché sono chiusi però ne parla sui social e che cosa capisce cioè quando gli si dà due informazioni contrastanti dalla stessa istituzione a 24 ore di differenza non è che se ne possa uscire in modo vincente cioè in ogni caso credo che un po' la frittata sia fatta e insomma anche dal vociare pubblico si coglie che c'è un po' di perplessità e di ritrosia nell'utilizzare quel vaccino forse anche più di quella che è ragionevole avere però ormai forse è chiuso il microfono hai ragione perché c'era un volcano che abbagliava scusate no devo dire che sei molto educato noi ci conosciamo e lo possiamo dire che non ci conosciamo ufficialmente oggi cioè nel senso che prima magari ci si leggeva sui social però è veramente incomprensibile che misuri molto le parole nel senso io mi aspettavo che la sparavi un po' ogni tanto invece sei molto cauto molto diciamo prudente nella scelta delle parole cosa che invece sui social non si vince cioè pure insomma le parole poi sono sempre le stesse per cui insomma c'è un dotti sui social e un dotti fuori dai social questo te lo dico io volevo chiederti l'ultima cosa e ringraziarti tra un anno qual è tra un anno non sappiamo e sarebbe sbagliato chiederti anzi è una delle domande che non si dovrebbero fare adesso io ti ho intervistato come una fonte tu sei un giornalista e ti ringrazio perché so quanti giornalisti facciano fatica no? poi a mettersi dall'altra parte a rispondere alle domande il nostro lavoro è quello di fare le domande per cui l'ho apprezzato molto però insomma tra un anno cosa succederà non vogliamo dire cosa succederà perché non siamo qui a tirare i dadi e non è il nostro mestiere e anzi noi dovremmo essere quelli che quando vediamo qualcuno che tira troppi dadi con troppa disinvoltura probabilmente ha qualcosa da nascondere o non è onesto nella comunicazione che fa però cos'è che sei convinto che non si sia detto in maniera chiara ecco durante questa pandemia cioè cos'è che tuo figlio potrebbe venirti a dire cioè insomma una persona giovane una nuova generazione no? un ragazzo giovane che magari si affaccia sul mestiere del giornalista ti vorrebbe venire a rimproverare che cos'è che non avete detto che non abbiamo detto in maniera chiara di questa pandemia per tempo che magari e dirla magari dopo con un libro è troppo tardi allora non è che non sia stata detta perché qualcuno lo ha fatto però non è passato quindi forse non lo si è detto abbastanza dall'inizio qual era l'orizzonte temporale la complessità di quello che ci saremmo trovati davanti no? io ricordo ancora quando era un anno e un mese fa no? che c'erano le prime chiusure il primo lockdown nazionale che è un po' quello che si diceva da una parte politici ma insomma anche in generale nella comunicazione era va bene dobbiamo chiudere portiamo pazienza qualche settimana così la pandemia ce la siamo levata e poi quando è arrivato insomma l'estate la stagione calda e come molti virus a trasmissione aerea anche il SARS-CoV-2 ha circolato un pochino di meno anche per effetto del lockdown ci siamo un po' illusi che la storia fosse finita che ormai la pandemia fosse un ricordo ecco forse questo è stato almeno a mio giudizio il più serio e grave errore di comunicazione che è stato fatto e che poi è quello che stiamo pagando credo in questi mesi dove siamo un po' tutti abbattuti dal fatto che si stiano prolungando i lockdown le misure che comunque questa curva dei contagi non scende davvero ma restano bilanci drammatici giorno dopo giorno ma non è qualche cosa che era imprevedibile o che non doveva assolutamente succedere purtroppo la storia ci dice che quando ci sono pandemie di questo tipo le ondate sono più di una ora dipende da come la si conta però la famosa influenza spagnola post prima guerra mondiale fece quattro stagioni fredde prima di diciamo in qualche modo svanire come effetto in termini di vite umane quindi illudersi che fosse finita dopo il primo giro era appunto un'illusione ora come giustamente dicevi nessuno ha la sfera di cristallo non tiriamo a caso per il futuro però l'ipotesi che a settembre ottobre 2020 non sia finita ma che ci sia non sappiamo con quale grado di gravità non sappiamo con che numeri con che varianti con che vaccini però ecco pensare che ha un orizzonte temporale breve si possa dire davvero fine alla pandemia la vedo un po' difficile secondo voi quanto una domanda ha inciso la mancanza di dati affidabili aperti portando alla creazione di quanto ho parlato finora scienziati che diventano popolari dubbi dei vaccini cioè la mancanza quello che in termini scientifici dati solidi no? secondo te quanto ha inciso in questa vicenda? moltissimo nel senso che i dati sono stati soprattutto all'inizio ma in realtà ancora oggi uno dei grandi problemi anche nella comunicazione credo della pandemia nel senso che all'inizio i bollettini non si capiva bene che dati fossero erano comunicati con la precisione dell'unità ma poi si scopriva che erano frutto di rimescolamenti di chissà quanti giorni in precedenza quindi non si sa bene che cosa si stava anche rappresentando nei grafici raccontando alle persone qualche giorno fa tanto per arrivare all'attualità si è scoperto che una regione la Sicilia aveva preso i dati e ancora di recente li stava rimescolando ad hoc per rimanere entro certe soglie quindi insomma voi lo sapete benissimo in quanto infodata nei bellissimi lavori che fate si vanno a fare tutte le considerazioni tutte le visualizzazioni sui dati ma se poi la materia prima è di scarsa qualità o addirittura è voluta cioè già non potrà mai essere perfetta perché nella filiera di raccolta dei dati i ritardi le disomogeneità ci saranno sempre se poi addirittura ci sono persone che ci mettono le mani sopra per pasticciarli un po' diventa insomma un bellissimo esercizio di stile fare i grafici ma ci si chiede anche un po' il senso del lavoro senti quindi ci confermi in chiusura che non farai il telegiornalista è il telegiornalista scientifico lo assicuri sei sicuro non ti chiederemo a raccontare di parlare di sport lo prometti la cosa bella era che ti auguro di essere assunto da un telegiornale era in mezzo a due insulti di cui uno di morte quindi non so perché sia cosa succede di così terribile nelle redazioni televisive ah non l'avevo capito per cui è devi morire ma se non muori la cosa peggiore che ti può capitare è di fare il mezzo bus in televisione magari parlare di sagre ecco perché poi va bene esatto grazie Gianluca Dotti spero di riaverti qui presto se c'hai qualcosa da raccontarci noi siamo qui appuntamento domani domani parleremo di start up notai di leggi e di innovazione che viene un po' frenata ma vi racconteremo tutto domani arrivederci grazie mille a presto grazie